Buongiorno a tutti, in questa seconda giornata continuiamo il discorso sul tema delle critichette ambientali per artigianato tecnologico, scenario di sostenibilità socioambientale, in particolare oggi andremo a vedere un po' più nello specifico quelli che sono i materiali, quelle che sono le caratteristiche di tutta una serie di materiali, quelli che sono i trend dei nuovi materiali sempre legati al tema della sostenibilità, sia presentando dei casi reali, sia poi nella seconda parte della mattinata andando a vedere nello specifico quello che è il nuovo progetto di MATREC, questo osservatorio internazionale. Come ieri, man mano che vengono presentate le slide, se ci sono interventi, se ci sono domande, tranquillamente intervenite, creiamo un dibattito in modo tale che si possa discutere anche in alcuni casi nello specifico, per quelle che sono le mie competenze, fin dove posso arrivare a vedere nel dettaglio tutti questi elementi. Facendo una panoramica, allora, come vi spiegavo ieri, più che altro per andare un po' a contestualizzare anche quello che vi farò vedere e gli scenari dei materiali, ma soprattutto le caratteristiche di alcuni materiali, stiamo parlando di sostenibilità sia per quanto riguarda l'aspetto sociale, sia per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Abbiamo visto prevalentemente ieri, nella seconda parte, il tema della sostenibilità sociale legata alla filiera del prodotto, quindi valorizzare tutti gli aspetti etico-sociali che poi nell'esercitazione del pomeriggio abbiamo approfondito e approfondiremo poi nella seconda parte di oggi. Mentre per quanto riguarda la questione materiali, oggi ci focalizzeremo sull'aspetto della sostenibilità ambientale, quindi andare a vedere quelli che sono i materiali che possono in qualche modo contribuire in modo significativo nell'ambito del disegno industriale, nell'ambito dell'architettura, nell'ambito di tutte quelle che sono le applicazioni per diversi prodotti, materiali che possono contribuire a migliorare il nostro ecosistema e a riequilibrare quel 156% dell'overshot day, quindi delle risorse che noi annualmente andiamo a consumare per cercare appunto di riequilibrare e ritornare a una rigenerazione di tutto il sistema, una rigenerazione che sia autosufficiente ma soprattutto sostenibile. Allora, le immagini che ho selezionato in quanto ci sono migliaia di casi, oggi ho escluso quelli che sono i materiali un po' tradizionali che sono abbastanza conosciuti, la selezione ricade prevalentemente su tutta una serie di proposte che arrivano sul mercato e che danno un po' quello che è il segnale, l'orientamento, un po' il segnale di quello che è il trend e quindi delle potenzialità di quello che si sta facendo e quindi potete essere d'accordo o non potete essere d'accordo, su questo apriamo anche un dibattito, per far capire che fino a un po' di tempo fa si pensava che determinati prodotti potessero essere fatti solo e esclusivamente utilizzando determinati materiali per garantirne la resistenza, per garantirne e la durata per garantire le performance. In realtà adesso siamo in una fase in cui ci sono nuove proposte, in cui c'è stata un'evoluzione tecnologica, in cui i materiali che fino a qualche anno fa erano un rifiuto adesso iniziano ad essere valorizzati come risorse, ad essere trasformati anche grazie alle nuove tecnologie e quindi ad avere un nuovo impiego. Quindi abbiamo le due grandi famiglie, dei materiali naturali, quindi quelli da fonte rinnovabile, dei materiali riciclati, quelli che derivano quindi dal processo di pre-consumo, che derivano dal processo di post-consumo, quindi per dirlo in modo semplificato, dalla raccolta differenziata. All'interno anche di queste due famiglie ci sono i biomateriali, vi farò vedere qualche esempio di bioplastica, che appunto è questo nuovo orientamento che sta prendendo piede soprattutto nel settore imballaggio, biomateriali che, bioplastiche nello specifico, che poi si suddividono a secondo, diciamo, delle caratteristiche, ma nel rispetto di quelle che sono determinate direttive che vanno a, proprio a definire quando una bioplastica, quando si può definire un materiale bioplastica. Quindi nell'ambito di questa bioplastica ci sono i biodegradabili e i compostabili, quindi due famiglie differenti, in una parte c'è l'aspetto della biodegradabilità, dall'altra della compostabilità. Allora direi che possiamo partire con gli esempi e partirei con la canapa. La canapa che è un materiale conosciuto tradizionalmente, soprattutto, diciamo, negli ultimi anni, sia per il settore dell'abbigliamento, sia per il settore dell'isolamento, quindi materiale naturale che, anche grazie a tutta la spinta che c'è stata la bioarchitettura e quindi dell'impiego di materiali da fonte rinnovabile, la canapa ha iniziato a prendere un suo impiego, inizia ad avere un suo interesse e non solo per la questione dell'isolamento, ma anche per altre applicazioni, come ad esempio in questo caso la canapa pressata a caldo e in alcuni casi miscelata anche a delle fibre di poliestere permette di raggiungere dei risultati di rigidità che in questo caso hanno portato alla realizzazione di un occhiale. Vedrete nei vari esempi di questa mattina che spesso presento degli occhiali, quindi nuovi materiali utilizzati per fare degli occhiali, perché l'occhiale, se ne parlava anche un po' ieri, è un prodotto che identifica molto la persona, è un prodotto che generalmente il consumatore ci tiene a scegliere in modo molto attento in quanto è sì un prodotto, un oggetto che si indossa, che fa molto moda, ma soprattutto che deve andare proprio a identificare la persona, nel senso ognuno di noi può prendere occhiali differenti in base ai propri gusti, ma l'occhiale poi va proprio a caratterizzare il viso, ma soprattutto la persona stessa. Quindi la scelta anche in questo caso di realizzare diversi tipi di occhiali con materiali differenti, cosa mette in evidenza? Che comunque c'è un'evoluzione, c'è un'evoluzione su questo tipo di prodotto, ma soprattutto c'è un'evoluzione con l'impiego di materiali alternativi. Il senso qual è? Perché si dovrebbe fare un occhiale in canapa? Da una parte per provocazioni, ma dall'altra perché ci potrebbe essere tutto un segmento che in funzione della durata, in funzione della moda, in funzione di chi effettivamente pensa che il tema della sostenibilità può comunque essere portato e spinto anche all'analizzazione di questi prodotti, vedremo effettivamente funzionano. Quindi questi materiali che caratterizzano prodotti anche molto personali. Quindi la canapa che oltre nel settore degli occhiali inizia a essere impiegata anche nel settore dell'arredamento. Qui abbiamo un esempio sempre di canapa, anche qui mischiata a fibre poliestere, anche in questo caso viene formata a caldo e l'aspetto interessante qual è? È che comunque si ottiene anche una certa resistenza, si ottengono delle forme molto interessanti, si ottengono dei prodotti puliti, se vogliamo, nelle linee, nelle forme che quindi possono tranquillamente essere introdotte nel mondo del design e possono caratterizzare, dare idee per nuove applicazioni, applicazioni che quindi possono risparmiare risorse e quello che a me piace sempre dire è progettare la durata del prodotto in funzione anche del materiale. Cioè abbiamo dei prodotti che hanno un ciclo di vita molto breve che spesso e volentieri vengono realizzati con materiali che possono durare all'infinito. Facciamo l'esempio della bottiglia d'acqua realizzata in PET. Naturalmente il ciclo di vita di questa bottiglia è molto breve, è vero che si può riciclare in quanto una volta riciclato ci si fanno infilate, ci si fanno tanti prodotti e anche prodotti di qualità. La questione è che comunque le risorse utilizzate per la realizzazione di questa bottiglia, quindi del PET, risorsa a base di petrolio, sostanzialmente ha una rigenerazione molto alta, stiamo parlando di milioni di anni e in questo caso il fatto di poter pensare ad un nuovo materiale che comunque sia altrettanto facilmente riciclabile, con minore impatto ambientale e che riesca a collegarsi alla durata del prodotto potrebbe essere un'idea anche innovativa. È anche vero che bisogna garantire le performance, non a caso viene utilizzato il PET in questo caso per la conservazione, soprattutto anche per quanto riguarda le bottiglie, l'acqua minerale, quella gasata, per garantire la resistenza del recipiente, quindi ci sono altre proprietà, altre caratteristiche che devono soddisfare al massimo la funzione poi del contenitore, cioè alla fine noi dobbiamo bere l'acqua che sia sana. Quindi abbiamo visto un impiego abbastanza innovativo, un impiego innovativo anche nel settore, diciamo prima, dell'abbigliamento, dei tessuti, varie case di moda, anche di un certo rilievo, hanno iniziato a utilizzare questo materiale come tessuto, in questo caso vediamo un esempio di scarpa da tennis. La finitura per la canapa può variare secondo se si progettano gli occhiali oppure degli interni, quindi gli arredamenti? Immagino che sia più plastica per la materia per gli occhiali e più confelto per gli arredamenti? Sì, allora, generalmente la canapa, nello stato naturale, ha questo colore. Ok, che lo vediamo. Naturalmente sono prodotti in fase sperimentale, un po' come la lana riciclata, un po' come il feltro, giustamente, come la lana cotta, diciamo così. Siamo alle prime sperimentazioni e a seconda della resistenza che si vuol dare si può caricare più o meno di fibre di poliestere. Quindi il poliestere che dà... quindi l'occhialo avrà più poliestere della scarpa? Non necessariamente, non necessariamente. Dipende dalla rifinitura ottimale che si vuole ottenere alla fine, perché in molti casi la stessa canapa viene utilizzata attraverso la miscelata anche con delle resine naturali per avere altre performance, ma così come la canapa può essere anche il kenaf, vedremo, così come può essere la carta. Quindi siamo in una fase sperimentale in cui questi materiali naturali, diciamo a base fibrosa, si vede che è un materiale a base fibrosa, iniziano a essere impiegati, a essere sperimentati per diverse applicazioni. Alcune provocatorie, altre un po' meno provocatorie, molto più serie, però la dimostrazione qual è? Che si può fare? C'è ancora della strada da fare, c'è ancora da migliorare il materiale, ma si può fare, siamo sicuri che i risultati saranno raggiunti. Detto ciò, c'è da dire una cosa che è molto importante, il fatto di utilizzare materiali naturali o il fatto di utilizzare materiali riciclati per un prodotto dovrebbe essere buon senso nella progettazione ambientalmente sostenibile che questi materiali poi a loro volta possono essere nuovamente riciclati, perché succede in alcuni casi che si utilizzano, vengono utilizzati materiali riciclati che miscelati ad altri tipi di materiali sintetici o naturali poi non permettono più la riciclabilità degli stessi e quindi è vero che si utilizza materiale riciclato ma poi non è più riciclabile, quindi si rimanda al problema. È vero che utilizzando materiale riciclato utilizziamo meno risorse, meno materie prime, però dall'altra parte subentra il problema del riciclo. Infatti in questo caso il fatto di utilizzare poliestere mischiato a fibre di chenafo a fine di canapa per l'ottenimento di prodotti, in questo caso termoformati, che hanno una certa resistenza e quindi riequilibrare o meglio caricare, usiamo questo termine, il chenafo, la canapa con delle fibre sintetiche poi può creare dei problemi in fase di riciclo, in quanto che se fosse 100% canapa ci permetterebbe alla fine di mandare anche a compost questo prodotto una volta trattato. Nel momento in cui inizia a esserci la componente sintetica, iniziano ad esserci tutta una serie di problemi in quanto a compost non lo possiamo mandare, non diventa più biodegradabile, altrimenti rimerebbero tutte le sostanze sintetiche nel terreno, bisognerebbe trovare la filiera del riciclo. Ma quale può essere la filiera del riciclo? Si può mandare nella filiera del riciclo dei tessuti? Sono tutti aspetti da verificare. Quindi il concetto qual è? Si utilizziamo questi materiali, facciamo delle sperimentazioni, purché il risultato ottenuto sia finalizzato anche al riciclo dello stesso prodotto, altrimenti spostiamo il problema, lo spostiamo di qualche anno, però alla fine ce lo ritroviamo questo problema. L'utilizzo di resine naturali, perché ci sono delle resine naturali che permettono comunque di miscelarsi con tutta una serie di altri materiali naturali, le stesse resine poi che non hanno componente chimiche, ne parlavamo anche ieri, possono essere tranquillamente anche queste biodegradabili e quindi da mandare in biodegradazione e quindi in alcuni casi anche a compost. Quindi tessuti, il problema di tessuti che adesso sempre più spesso per garantire la resistenza di questi tessuti, vengono aggiunte delle fibre di poliestere e quindi fibre di poliestere che vanno appunto a penalizzare, a migliorare sì la qualità del prodotto, però vanno a penalizzare poi la fase del riciclo. quindi canapa utilizzata anche nel settore degli accessori della moda per diverse funzioni o per rifinitura o per componentistiche interne o esterne ed utilizzata come ad esempio in questo caso nel settore automobilistico della Lotus dove sono state fatte una serie di sperimentazioni proprio miscelando la canapa insieme a delle resine naturali, con delle resine naturali per fare delle componentistiche appunto per il settore automobilistico. Quindi non solo per la componente esterna ma anche per la componente esterna, quindi filati per realizzare la parte di rivestimento dei tappetini o addirittura appunto le parti interne. quindi c'è un'evoluzione, c'è una tendenza a molti materiali naturali, cioè se dovessi fare io adesso un'analisi di quelli che sono i trend dei nuovi materiali vi direi al 100% guardate che i materiali naturali, soprattutto quelli fibrosi, stanno prendendo molta attenzione. Iniziano a essere molto impiegati non solo nell'ambito edile spinti appunto dall'aspetto della sostenibilità della bioarchitettura ma anche nel settore dell'industria design. Proviamo a cambiare materiale, veniamo alla carta. La carta è un materiale incredibile, incredibile perché permette di fare un sacco di cose, viene utilizzato già impiegato in diversi settori, sapete che la carta proviene appunto dalle fibre appunto di cellulosa, quindi proviene dagli alberi, quindi fibre molto resistenti e man mano che si va al riciclo di questo materiale le fibre si accorciano, quindi più si accorciano le fibre, più si ricicla, più si accorciano le fibre e man mano che si accorciano le fibre la resistenza di questa carta, diciamo, perde in un certo senso. Quindi quando le fibre sono molto lunghe abbiamo delle carte molto resistenti, non so se avete mai visto quei cilindri, quei contenitori per il trasporto di prodotti, in alcuni casi anche chimici, che hanno i tappi metallici sopra e sotto, che sono cilindri fatti appunto in cartone, in carta craft, molto ma molto resistente, in quel caso fatti in carta con una fibra molto elevata. Poi invece abbiamo i classici cartoni che sono microonda, doppia onda, tripla onda, perché poi ci sono una varietà incredibile di classificazione di carte e di cartoni. A seconda delle caratteristiche può esserci che i due fogli esterni sono fatti in carta craft, mentre invece quelli esterni abbiano dei contenuti di materiale riciclato. La cosa più semplice da verificare è quando si ritrova un cartone di aprirlo e di vedere se dentro l'interno è grigio, vuol dire che c'è una percentuale di carta riciclata, nel momento in cui il grigio va sempre più verso il marrone, vuol dire che comunque la percentuale di fibra vergine è presente. Quindi c'è un ricettario incredibile nel fare le carte, ci sono delle prestazioni incredibili, oltre al fatto anche di sbiancare queste carte e va detto assolutamente in quanto l'Italia ha fatto dei grossissimi, enormi passi in avanti nella raccolta, recupero e riciclo della carta che fino a un po' di anni fa l'Italia acquistava carta da macero all'estero per produrre nuova carta riciclata o poi produrre dei cartoni a base di riciclo. Da 6 o 7 anni il sistema di raccolta e recupero della carta in Italia degli imballaggi è diventato talmente efficiente grazie al Consorzio Comieco, che è il Consorzio nazionale che raccoglie e recupero e ricicla gli imballaggi a base cellulosica e adesso è l'Italia che vende questa carta da macero all'estero. Quindi in versione di tendenza siamo stati bravi, grazie appunto a questo sistema Comieco, siamo stati bravi noi nel fare questa raccolta differenziata e siamo noi a vendere la carta da macero all'estero. Dicevo che la carta è un materiale incredibile, è incredibile perché generalmente la gente associa la carta allo scatolone e all'imballaggio e quindi cosa succede? Che quando si parla di un prodotto in carta uno dice si rompe, uno dice si bagna, uno dice si strappa. In realtà non è sempre così, la carta già viene utilizzata nell'edilizia, viene utilizzata soprattutto negli ultimi anni, c'è stata una voluzione incredibile nel settore del design, sono stati fatti un sacco di arredi in design in carta e nel pomeriggio vi farò vedere, vi presenterò una pubblicazione che abbiamo appena concluso e presentato proprio ieri con Comieco ed è sul sito, sul portale di Matrec, di quelle che sono le applicazioni innovative della carta. Quindi la carta che ha veramente delle potenzialità pazzesche e qui vediamo un occhiale, appunto per tornare al tema degli occhiali, dove ci sono diversi occhiali e qui si vuole evidenziare che la componentistica legata all'occhiale, che poi è la famosa stanghetta che si unisce alla parte principale del corpo degli occhiali dove c'è la lente, quindi una parte molto delicata, anche qui si è in modo un po' tra virgolette artigianale, però attraverso processi di pressatura della carta si è riusciti ad arrivare all'analizzazione di questi occhiali, belli o brutti che siano, comunque l'innovazione sta andando molto avanti, vi farò vedere poi sempre nella seconda parte della mattinata altri occhiali, sempre fatti in carta ma con cartone pressato, dove la qualità è migliorata ancora. La domanda è che senso ha fare degli occhiali in carta? Gli occhiali in carta ha senso quando fino a un po' di tempo fa si andava al cinema a vedere i primi film 3D e ci davano gli occhialini in carta che noi usavamo e restituivamo una volta usciti dalle sale. Questi occhialini adesso in molti casi sono diventati in plastica o sono diventati in multiuso. La particolarità degli occhiali in carta qual è? Che si possono stampare varie grafiche, quindi la personalizzazione dell'occhiale stesso, la personalizzazione che ci può permettere un po' come adesso la moda della calzatura, avete visto che va molto di moda sui social network il fotografarsi le scarpe e ci sono diverse aziende che stanno sviluppando scarpe con vari colori, con molto provocatorie, quindi delle scarpe che vanno a identificare molto la persona e in questo caso anche per gli occhiali ci possiamo fare qualsiasi disegno, quindi se arrivati a un discorso di personalizziamo l'occhiale, ci possiamo disegnare i funghetti, ci possiamo disegnare i cuoricini, ci possiamo disegnare i fiori, ci possiamo disegnare il foglio di giornale, tutto quello che vogliamo. Quindi il tema della personalizzazione ma è legato anche alla questione dell'occhiale, ad esempio usa e getta. In alcuni casi ci sono una serie di occhiali che per necessità o per bisogno hanno una breve durata di vita, l'occhiale tendenzialmente non è un prodotto che si butta una volta che non si impiega più ma generalmente si ripone nel cassetto in quanto si dice lo potrò sempre riutilizzare poi non si riutilizza più. In questo caso comunque prima o poi quegli occhiali saranno buttati, nel senso che si potranno tenere anche per dieci generazioni però alla fine l'occhiale viene buttato. In questo caso il tema provocatorio è quello appunto dell'occhiale personalizzato. Sempre con Matric abbiamo fatto una pubblicazione tre anni fa, dieci anni di carta e cartone in collaborazione con Comieco dove siamo andati a analizzare dal 2002 al 2012, abbiamo fatto un'analisi internazionale, un monitoraggio per vedere come è avvenuta l'evoluzione dell'impiego dei prodotti di carta e cartone nel mercato. Ora, cosa succede? È incredibile vedere, se abbiamo tempo poi lo vediamo dopo, come nel 2002 si facevano prodotti molto artigianali ma poco curati nel design, poco curati nelle forme, poco curati anche nelle texture e nell'ingegneria, nell'ingegnerizzazione, scusate, dei sistemi di incastro. Ad oggi ci sono sul mercato tutta una serie di prodotti realizzati in cartone, librerie, sedie, tavoli, sempre prodotti anche a livello artigianalmente ma a livello anche industriale che hanno delle performance incredibili, che hanno fatto un salto enorme in termini qualità, attivi. E la cosa sorprendente qual è? La cosa sorprendente è che sempre a livello internazionale l'Italia sta tirando questo settore. Nel senso, noi, la nostra materia grigia ha sviluppato tutta una serie di prodotti e dà tutta una serie di aziende che presentano prodotti veramente innovativi rispetto ad altri mercati. Quindi il cartone ha ancora molto da raccontare. In questo caso gli occhiali ma, ad esempio, sempre in tema provocatorio, guardiamo questa ciotola. Questa è una ciotola che è stata ottenuta dalla carta riciclata dalle vecchie banconote. Quindi vecchie banconote, abbiamo due esempi, i dollari statunitensi e i pound inglesi, vengono macinati, vengono triturati e quindi dal wallpaper, dalla carta riciclata di queste banconote, vengono recuperati, vengono pressate. La parte interna è stata fatta con una ciotola similceramica e quindi è un impiego alternativo di questa carta. Quindi il valore della carta, che passa ad esempio da una banconota di 100 dollari, per fare un esempio, ad essere triturata, essere rimpiegata con una propria identità, infatti prevale il verde, non so se si vede, non è molto chiaro, che va a identificare questo oggetto. Anche qui la fantasia di lavorare e rimpiegare la carta, ma ci saranno molti casi. Ora, questa è carta, anche se non sembrerebbe questa carta. Io ricordo che nel 2003 avevo partecipato a una serie di puntate di uno mattina che avevano il titolo Riciclo Design e erano sette minuti in cui per ogni puntata si raccontava, o meglio raccontavo, una tipologia di materiale riciclato e cosa si faceva con quel prodotto. ricordo. Quando è arrivata la puntata della carta, ricordo che dopo di me, dopo i miei sette minuti, c'era lo chef Gianfranco Vissani che faceva la sua lezione di cucina e durante la puntata di presentazione della carta, dove raccontavo il riciclo della carta, portavo degli esempi di prodotti in carta in studio, mentre c'era questa presentazione c'era Gianfranco Vissani che stava preparando la sua cucina fuori onda per fare la lezione di cucina e mentre eravamo verso la fine del mio spazio è intervenuto Gianfranco Vissani che in termini provocatori ha detto, vabbè, se tanto vi piace così la carta vorrà dire che ci farete una cucina di carta. Bene, dopo un mese noi ci siamo presentati con una cucina di cartone, abbiamo realizzato effettivamente una cucina di cartone, ve la mostrerò, una cucina che aveva anche una forma molto particolare, dotata di forno elettrico, dotato di piano cottura elettrico e Gianfranco Vissani in quell'occasione ha cucinato su quella cucina. Ora, il senso quale è stato? Non era tanto quello di dire faccio una cucina in cartone e sono il primo a fare una cucina in cartone, il senso è quello di dire che faccio una cucina, tolti gli elettrodomestici, la prendo e la butto nel cassonetto della raccolta differenziata e va a riciclo. Era una fortissima provocazione per dire che comunque con la carta si poteva fare tutto, si poteva fare anche una cucina e mi ricordo che dopo quella puntata abbiamo ricevuto un sacco di richieste di persone che volevano comprare la cucina in cartone, in realtà il prototipo era uno e quindi non ci siamo neanche messi a commercializzare o a produrre questa cucina. Però da allora ad oggi è stato fatto un grossissimo passo in avanti e queste sono rifiniture in carta pressata che possono essere fissate al muro, ci sono varie texture, ci sono vari disegni, possono essere colorate esattamente dall'utente, quindi uno se lo può fare di un colore giallo, viola, rosso, blu e permettono comunque di dare una certa identità alla stanza a piacimento, quindi la carta anche come strumento decorativo ma vederlo dal vero vi garantisco che sono molto belli questi prodotti. Una domanda, ma la camera si può colorare? Questa è una bella domanda. Non lo so, una cosa è certa che dovresti immergerla in un colorante, ora, io penso che essendo una fibra naturale, sto facendo un ragionamento così, ma essendo tu esperto di materiali, ingegneria dei materiali, futuro esperto di ingegneria dei materiali, essendo io architetto, penso che essendo un materiale naturale, credo che sia un materiale che assorba e quindi metterla a bagno in una composizione di vernicia d'acqua, dove c'è una forte prevalenza di acqua, potrebbe essere che la canapa assorbe quest'acqua. Il problema è capire se poi la rilascia, cioè cosa succede in ambienti umidi una volta assorbita. Esattamente, o se è il caso, una volta che è stata assorbita, dagli eventualmente un fissante a base di sale, o un altro tipo di fissante sempre naturale, per permettere di non perdere il colore. In teoria però, una volta che assorbe il colore, una volta che viene riessicata, l'unico dubbio che è già essicata, viene riessicata, s'asciuga, in teoria non dovrebbe perderlo, a meno che non la bagni, però è logico che qualsiasi cosa bagni potrebbe. Però mi viene a dirgli sì, perché è un po' anche il concetto della colorazione del jeans. Cioè vado per ragionamento di questo tipo, cioè canapa, cotone, quindi dovrebbe poter assorbire. Essendo una fibra non omogenea, potrebbe essere che la colorazione anche qua non è omogenea, ma magari è una forza proprio di identità del materiale, cioè potrebbe essere un valore aggiunto di identità del materiale. Però è un bel esperimento da fare. Però naturalmente coloranti a base d'acqua. Assolutamente, altrimenti... Perché la macchina si vede, è come se fosse la lotus o il canapa stai. Esattamente, esattamente. L'obiettivo è che la lotus rimanga lotus e che la canapa è che c'è la macchina. Sì, ma arriveranno a fare la colorazione e l'identità di questo materiale? Assolutamente. Però sono sperimentazioni interessanti da fare. Sì, mantenendo la sua naturalità, nel senso che se andiamo a utilizzare comunque dei pigmenti o delle colorazioni forti pur di raggiungere il colore desiderato, a sto punto andiamo a rovinare l'obiettivo. Cioè prendiamo una fibra di poliestero e la stessa identica cosa. Se andiamo a fare un'operazione e utilizzare un materiale naturale, non renderlo più biodegradabile o riciclabile, per caricarlo di pigmenti sintetici sarebbe inutile. Ok. Allora, veniamo alla calzatura. Questa calzatura ha tutta la parte superiore realizzata in carta. È di un designer italiano, Mirko Paladini, un designer che si occupa di calzature e io lo trovo, lo trovo, questo progetto, un progetto molto intelligente e interessante perché ci sono state diverse sperimentazioni di calzature in carta. Non ho provato questa calzatura, lo dico, ma mi piacerebbe molto provarla. Lo trovo interessante perché le sperimentazioni precedenti sono state la maggior parte sperimentazioni che hanno o tentato di utilizzare al 100% la carta e quindi anche la parte di soletta e questo è stato un po' critico, oppure sperimentazioni in cui hanno messo solo la parte di soletta proprio tagliata, incollata alla componente di carta. Qua lo trovo intelligente perché va a riprendere quello che è un po' lo stile della calzatura attuale, quindi è una bella calzatura, cioè non ha fatto, non si è scostato molto dal design moderno che adesso è di moda, fa tendenza. Ha comunque tenuto la base in gomma e questo non è che è penalizzante nel modo più assoluto perché alla fine io potrei tranquillamente con la forbice tagliare la componente cartacea, mandare al riciclo della carta, naturalmente dovevi togliere anche tutte le parti metalliche e mandare al riciclo la parte sottostante in gomma, ma ha saputo comunque accostare e rinforzare sempre in carta le diverse componenti che devono dare comunque performance e resistenza alla calzatura. Quindi lo trovo un progetto intelligente, la carta permette anche di fare questo, ci sono delle carte che hanno all'interno delle componenti naturali che le rendono impermeabili, che permettono di essere in qualche modo, diciamo così brutalmente strofinate senza, diciamo, perderne le caratteristiche. Naturalmente come è stata fatta la scalpa da tennis, è stata fatta anche la ballerina, per par condicio facciamo la scalpa da uomo, ma facciamo anche la scalpa da donna. Questi sono solo due modelli, se andate sul sito, sul suo sito vedete diversi modelli e anche in questo caso il discorso della personalizzazione io lo trovo geniale, nel senso, mi sgosto? Potremmo anche dargli un po' di elasticità alla carta? Elasticità dubito, io non le ho provate, però penso che siano abbastanza, diciamo, rigide. Ora, non so se ha utilizzato poi elastici internamente, tipici delle ballerine, per dar miglior presa al piede, probabilmente sì, perché qua vedo comunque una rifinitura di chiusura che potrebbe essere tranquillamente anche un elastico, andrebbe provata, andrebbe testata, però guardiamo che passo in avanti è stato fatto, cioè è una bella calzatura, sono due belle calzature, io sarei veramente curioso di provarle. Quindi la calzatura, ma così come le borse. Ora, queste borse possono piacere o non piacere, il concetto qual è? Non è intanto il fatto mi piace o non mi piace, la compro o non la compro, il concetto è quello di dire sono state fatte delle valigie comunque in carta. Ora, molto spesso sentiamo alla televisione, soprattutto i filmati dell'istituto Luce, che si racconta quando c'è stata l'emigrazione dal sud al nord con le valigie di cartone. Bene, adesso queste valigie di cartone ci sono, hanno delle performance incredibili e la carta ha una sua identità, una forte identità e quindi in questo caso può essere assolutamente migliorata, questo è un esempio, ma può essere colorata e ci sono delle carte, io già vi ho provato a vedere delle carte con cui ci fanno anche dei, hanno provato a farci dei capi di abbigliamento, che la piega della carta è molto più ridotta, quindi si vede sempre una piega ma non è questo senso di sciupato, è molto meno sciupato e c'è la piega un po' più marcata, quindi una carta un po' più resistente, una carta un po' più morbida, che solamente se prende delle forti pressioni, allora la piega rimane. Quindi un grosso passo in avanti, da prodotti diciamo così a caratteristiche di morbidezza possiamo dire, passiamo ad un altro settore che è il settore della carta della resistenza, in questo caso sono materiali che impiegano carta e resina, ci sono dei materiali che miscelati in modo differente con carta e resina permettono di arrivare ad avere delle performance incredibili, il problema però è quello che vi dicevo prima, e cioè va bene utilizzare miscele, purché lo stesso prodotto, alla fine questo prodotto possa essere riciclato, quindi se usiamo delle resine naturali che poi permettono un successivo riciclo e recupero del mul paper della carta, va benissimo, nel momento in cui usiamo resine possediche che ne aumentano le performance, è veramente critico riutilizzare questo prodotto. Questo che è un tagliere, quindi tagliere in carta, miscelato a delle resine, praticamente resine naturali può addirittura essere messo in lavastoviglia e ha una resistenza incredibile, cioè io più volte ho avuto a che fare con questo materiale, di toccarlo e di vedere i prodotti realizzati in questo materiale ed è un materiale molto interessante che addirittura viene utilizzato in questo caso per dei piani cucina, ma anche per il rivestimento della cucina. Quindi la carta che sale di livello, la carta che come materiale innovativo viene impiegato anche da aziende di un certo livello come materiale di rifinitura, come materiale che dà valore al prodotto, prodotto che costano migliaia di euro, hanno in alcuni casi anche diciamo queste rifiniture che hanno anche delle colorazioni molto interessanti in alcuni casi. e poi arriviamo sempre alla fase sperimentale, la fase sperimentale dove in questo caso Peugeot ha realizzato questa automobile, è un prototipo va detto, dove la parte interna, non so se riuscite a vederla bene, no, tutto questo, tutte queste componenti sono realizzate in carta ed è una carta particolare perché è fatta da migliaia di fogli di giornali incollati tra di loro che diventano rigidi e poi vengono lavorati come legno. Quindi Peugeot ha voluto fare questa sperimentazione, il prototipo è stato molto molto interessante, però il senso qual è? Che per quanto sia stata una provocazione, per quanto sia stato un prototipo, comunque anche la carta è stata impiegata nel settore d'auto, quindi c'è ancora molto da scoprire, c'è ancora molto da inventare, c'è ancora molto da creare. L'idea di realizzare questo materiale che poi incollando questi fogli e tagliando l'ottipo in legno si vedono le venature, in un certo senso, della carta, l'idea di un ragazzo olandese che ha creato una vera e propria fabbrica di questi prodotti, prodotti sia di arredamento, prodotto oggettistica, ma sviluppa anche tutta una serie di sperimentazione. Bene, detto ciò passiamo ad un altro materiale, il bambù. Il bambù è, ieri ne accennavamo un po', è un materiale che va di moda adesso, tutti parlano del bambù, viene impiegato un po' in tutti i settori, a 360 gradi, è un materiale naturale, è un materiale che ha una crescita molto veloce e quindi questo permette di essere raccolto ed essere impiegato molto velocemente. A secondo delle zone, da dove cresce il bambù può ricrescere in quattro mesi per avere uno stelo abbastanza piccolo, ma ci sono dei bambù che crescono e arrivano fino a 18-20 metri, anche oltre 20 metri, se vengono lasciati crescere per due o quattro anni. Quindi, diverse caratteristiche a secondo della crescita, però il vantaggio di questo materiale è che si regenera velocemente. È un materiale che è un po' di moda adesso, si fa tutto in bambù, è resistente, è leggero, la fibra del bambù è anche oggetto di sperimentazioni in vari settori per cercare anche in alcuni casi di capire se può coprire le performance, alcune delle prime performance date dalla fibra di carbonio, quindi si sta cercando di dare molto importanza al bambù, non è così semplice, però è positivo che ci siano queste ricerche. Partiamo sempre dagli occhiali, se voi fate una ricerca in Google e scrivete occhiali in bambù, ve ne escono un sacco, ve ne escono moltissimi e anche se ricercate arredamenti in bambù, vedete che vengono proposti sul mercato molti 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 prodotti. Qua naturalmente la texture è molto interessante, si sta cercando anche di dare tutta una serie di colorazioni allo stesso bambù, colorazioni legate anche alla fibra ed è un materiale che comunque garantisce, per la sua naturalità garantisce una certa resistenza, quindi per quanto riguarda il settore dell'occhiale è vero, è marcato molto dal punto di vista dell'identità stessa del bambù, quindi questi segni che definiscono il materiale stesso, però in sostituzione di materiali sintetici, in sostituzione di policarbonati, in sostituzione di altri materiali difficilmente riciclabili, in questo caso il bambù potrebbe essere una valida soluzione in termini di sostenibilità ambientale. Occhiali in bambù ma anche orologi in bambù, adesso è la moda degli occhiali in bambù e in legno, sempre più aziende stanno facendo occhiali in legno, occhiali in alcuni casi molto molto belli e anche degli orologi in bambù e in legno, quindi l'oggettistica anche di precisione che viene diciamo in base da questo materiale, oltre anche dovreste vedere ci sono degli orologi anche molto belli in legno, in questo caso gli orologi in bambù dove il senso è quello di dare naturalezza al prodotto, quello che in alcuni casi non si comprende è appunto l'unire, ma solamente per questioni estetiche, per questioni di design, la componente metallica con il bambù, sono sperimentazioni che comunque cercano di dare naturalezza a un certo punto di vista, resistenza e un messaggio di forza dall'altra per la presenza del metallo, quindi alla fine l'orologio ci deve dare sicurezza, ci deve dare garanzia a meno che non siano altri tipi di orologi proprio progettati per un discorso di moda di tendenza. Quindi il bambù che arriva anche a componenti di precisione, il bambù che in questo caso fibre di bambù incrociate con fibre di lino hanno permesso la realizzazione di questi sci, mi spiace che qua non si veda molto bene, di questi sci, quindi il discorso qual è? Che si cercano di aumentare le performance, quindi la miscela di due o più materiali naturali, in questo caso anche con resini naturali, permettono comunque di arrivare a realizzare prodotti con determinate caratteristiche. Ed è tutta una ricerca in corso, una ricerca abbastanza avanzata, perché pensare di realizzare con delle fibre di bambù, un paio di sci, fibre di bambù e lino, è una cosa molto interessante. C'è un'azienda olandese che fa dei tessuti naturali con fibre di vari materiali e sta lavorando molto sull'incrocio di queste fibre per arrivare a realizzare dei tessuti con resistenze molto elevate, resistenze che vanno oltre a quelle che sono le resistenze tradizionali dei tessuti oggi presenti in mercato, quindi anche per tessuti in un certo senso sportivi. Quindi sta andando molto questa ricerca e sembra che ci sia anche l'interesse da parte del mercato. Quindi in questo caso facciamo un passo indietro al ragionamento che facevamo ieri del dire quanto tempo ci impiega la lana o meglio la pecora a rigenerare la lana del mio maglione o quanto tempo ci impiega il cotone a ricrescere per realizzare la mia camicia. Anche in questo caso mettere in relazione questi prodotti e le performance di questi prodotti attraverso l'utilizzo di altri materiali naturali che non siano quelli sintetici o meglio che non siano quelli da non fonte rinnovabile è un grosso vantaggio e quindi un principio da seguire per la progettazione ambientalmente sostenibile. In questo caso è stato realizzato anche un casco, la texture un po' piacere e non piacere ma ha il senso quello di dire ha delle caratteristiche, ha delle fortissime caratteristiche del bambù e qui forse doveva essere un po' più diciamo ha una sua identità, non rientra nel mio stile forse doveva essere un po' più omogeneo come colore però insomma è un bel prodotto insomma ha delle applicazioni anche abbastanza avanzate dal punto di vista tecnico. Bambù che entra anche nell'arredamento quindi il vantaggio della resistenza, il vantaggio dell'elisticità e il vantaggio della performance in questo caso permette anche di realizzare prodotti di design vedete attraverso la creazione di questi fogli sottilissimi di bambù con in questo caso delle traverse per dare maggior resistenza al prodotto stesso ma anche per comunque permettere un po' di elasticità e quindi dare staticità al prodotto e strutturalità al prodotto stesso quindi un bambù che garantisce anche per la sua leggerezza di avere prodotti di design, prodotti di arredamento con un'altra identità, con un'altra texture ma sempre di naturalezza, in questo caso naturalmente la competizione è più verso il legno performance nel bambù in questo caso che ritroviamo anche nel telaio di questa bicicletta ci sono più casi di biciclette che hanno impiegato il bambù e in alcuni casi anche la carta diciamolo bambù, carta, in questo caso solo il bambù, naturalmente le altre componenti sono rimaste comunque metalliche però vedete che sicuramente risponde perfettamente alla performance richiesta ma si va a inserire anche molto bene grazie al design di questa bicicletta nel contesto cioè dà proprio questa idea di molto elegante e concludiamo sempre col settore dell'automobile, il bambù che è stato impiegato dalla BMW in questa nuova automobile, la serie 3 mi pare, non sono sicuro dove appunto la parte superiore del cruscotto è stato realizzato e altre parti anche in tenere dell'automobile sono realizzate in bambù, questo nuovo modello di automobile dove BMW è partita proprio col principio di dire utilizzo il più possibile materiali ambientalmente sostenibili e oltre al bambù ha utilizzato anche dei tessuti riciclati per i tappetini, per i rivestimenti interni e anche per i seduli e quindi un materiale che ha già una sua identità, è già presente nel mercato ma anche lui secondo me il bambù come materiale è ancora molto da raccontare quindi abbiamo visto tre materiali di base naturale che comunque hanno una nuova identità cioè si presentano sempre più con forza nel mercato che sono lì ad aspettare che ci siano delle nuove sperimentazioni sperimentazioni che possano portare a creare nuovi prodotti adesso voglio farvi una carellata veloce su tutta una serie di prodotti perché come Matrec, Sustainable Material Trend, noi abbiamo aperto questo appunto creato questo osservatorio dove la cosa importante che ci ha sempre chiesto le aziende è di capire come si muove il mercato cioè in che direzione si sta andando, quali sono i nuovi prodotti su cosa vengono fatte le sperimentazioni come questi nuovi prodotti vengono un po' recepiti dal mercato quali sono i prodotti più innovi, i prodotti della sostenibilità più innovativi che materiali vengono impiegati, che tecnologie vengono impiegati quindi il senso non è tanto quello di dire guarda c'è questo materiale il senso è quello di dire ci sono questi nuovi prodotti che sono stati presentati come prodotti innovativi sono innovativi per la tecnologia ma anche sono innovativi perché impiegano materiali ambientalmente sostenibili quindi non è solo l'aspetto del materiale ma anche della tecnologia e del design e della forma e quindi anche materiali vecchi che vengono ripescati vengono riutilizzati, rivengono trattati, vengono colorati ma che si presentano sul mercato con una nuova identità su questo le aziende ci stanno chiedendo un supporto proprio per capire dove orientare la loro produzione ma per avere anche uno sguardo internazionale nello specifico anche su diversi mercati e noi lo vedremo poi nella seconda parte stiamo facendo questo grossissimo lavoro di raccolta attraverso il nostro network, di selezione e di messa a punto di quelli che sono secondo noi i prodotti un po' più significativi adesso qui ve ne presento alcuni questi sono 100% fogli in feltro di lana vengono utilizzati per realizzare una collezione di sedute ora, il foglio di feltro di lana non è una novità c'è da anni quello che però adesso sta succedendo inizialmente un po' di anni fa anche come lana cotta veniva molto impiegata nelle borse se ricordate c'è stato un periodo in cui andavano parecchio le borse di lana cotta le ragazze se lo ricorderanno anche se non era il loro stile ancora adesso sta andando ultimamente questo materiale è stato un po' riscoperto nel mondo del design e quindi iniziano a farci anche tutta una serie di oggetti in questo caso ho scelto questi puff, chiamiamoli così che io ritengo molto interessanti perché comunque sono dinamici cioè perdono quella rigidità che originariamente contraddistingueva il feltro e grazie alle piegature grazie alle texture in questo caso prendono molta morbidezza e molto movimento la colorazione in questo caso aiuta molto perché non sono stati utilizzati colori forti ma colori chiamiamoli pastello i famosi colori pastello in un certo senso colori molto leggeri che si accostano molto bene al tipo di materiale quindi un materiale caldo colore pastello che sta bene in un ambiente di un certo tipo quindi se vedete in questo contesto che appunto hanno scelto escono, escono molto bene cioè a me piace molto questo prodotto perché è proprio marca questa volontà di dire che si può fare tutto col feltro il feltro in lana quindi dai fogli col principio se vogliamo dell'origami applicato il principio dell'origami poi internamente ci sarà un riempitivo che permette comunque di dare maggiore esistenza si ottiene questo si ottengono questi prodotti che possono allungarsi possono cambiare la forma possono ingrandirsi possono restringersi allora altra tendenza è il sughero il sughero io l'ho trovato sempre un materiale interessantissimo interessantissimo uno perché in Italia in modo particolare in Sardegna abbiamo un sughero di altissima qualità e quindi un sughero che ha elevate prestazioni rispetto ad altri tipi di sughero il sughero è un materiale molto caldo a me piace molto perché è un materiale asciutto ok e chiamiamo morbido e anche riutilizzo del sughero riciclato attraverso l'agglomerazione di questi granuli con resine naturali non con resine sintetiche permette di realizzare tutta una serie di oggetti quindi è possibile anche prendere foglie di sughero o scarti di sughero macinarli riagglomerarli e poi lavorarli per ottenere vari oggetti è stato in alcuni casi anche mischiato con la gomma quindi sughero e gomma esistono già degli isolamenti dove però la parte in gomma è quella predominante e quella in sughero è quella diciamo minoritaria in questo caso ci sono già sul mercato tutta una serie di prodotti ma ci sono anche i tessuti in sughero hanno fatto degli ombrelli in sughero poi possiamo vedere degli esempi hanno fatto degli arredi in sughero hanno fatto dell'oggettistica in sughero che vabbè quella è sempre stata tradizionale ma in questo caso mi sembra interessante perché permette di far vedere come un materiale come il sughero comunque un materiale percepito come un materiale granuloso alla fine può portare a realizzare tutta una serie di oggetti che hanno una loro identità una loro eleganza e sono materiali naturali quindi il sughero è un materiale che si rigenera si rigenera da anni non è una rigenerazione così veloce è un sughero che è impiegato appunto ancora in alcune bottiglie come tappo perché ne garantisce le performance migliori un sughero che anche lì ha ancora da dire la sua sarebbe fantastico poter stampare il sughero ora non ci siamo ancora arrivati però potrebbe essere che in qualche modo nei prossimi anni si possa arrivare a stampare questo prodotto sempre che sia necessario stamparlo sughero in fogli in questo caso vediamo l'originalità di questa sedia quindi sughero chiaro sughero scuro che molto bello l'accostamento secondo me tra sughero e base in legno che da un foglio questo foglio lo vedete qui viene ripiegato ci sono dei giunti metallici che permettono di ripiegare di bloccare sostanzialmente il ripiego e di la piegatura e di ottenere questa seduta quindi il concetto è un po' quello del foglio in carta in questo caso del sughero me lo piego lo blocco con dei giunti metallici che vedete si vede qua in piccolo no è troppo scuro ok e comunque ottengo un prodotto molto interessante anche qui la fantasia designer portoghese ha realizzato dei lavelli e degli oggetti per la casa miscelando resina miscelando scusate sughero e gomma con una resina naturale ha fatto dei lavelli con una texture molto carina molto bella assolutamente e quello che colpisce è proprio l'eleganza di questo prodotto e il calore che trasmette questo prodotto perché generalmente siamo abituati a vedere lavelli in acciaio inox o lavelli in corian o comunque sempre prodotti che si identificano con la ceramica materiale molto freddi vedendo questo lavello in sughero e gomma naturalmente colpisce la naturalità del prodotto questo è un prodotto interessante queste sono delle ciotole realizzate in cotone riciclato come sono queste ciotole queste ciotole sono realizzate prendendo un processo molto artigianale quest'artista ha preso tutta una serie di scarti di fogli di fogli scusate di tessuti scatti di lavoratori del settore tessile in cotone questi grandi fogli vengono messi uno sopra l'alto impregnati con una resina naturale una volta che si arriva a un certo spessore vengono pressati vengono lasciati asciugare e alla fine si ha un blocco molto rigido questo blocco può essere lavorato tipo legno quindi può essere tornito e queste ciotole sono ciotole in cotone tornete quindi è un processo interessante una fantasia incredibile chi avrebbe mai pensato di prendere gli scarti di produzione del settore tessile e a seconda naturalmente delle colorazioni a seconda degli strati potete definire ottenere diverse texture questa è una sperimentazione che a me personalmente piacerebbe fare perché si può fare in modo artigianale e e ci vuole solo diciamo la capacità e tra virgolette l'intelligenza di capire che tipo di prodotto fare ma soprattutto è anche la composizione del colore nel senso se io non vi avessi detto che era cotone voi avreste potuto dire tranquillamente che era non c'era in ceramica in realtà sono in cotone io non ho avuto il piacere di toccarle con mano però deve essere diciamo divertente vedere queste ciotole pensando che sono di ceramica uno le tocca e scopre che sono di cartone quindi seguendo questo principio la stessa cosa può essere fatta anche con la lana può essere fatta con tanti altri tipi di materiali scarti di produzione nel settore tessile ce ne sono e la cosa importante qui è logico cercare di utilizzare sempre collanti o resine a base naturale e questo esperimento veramente mi affascina tantissimo se qua decidete di farlo fatemi sapere che sono curioso di venire a vedere i risultati perché deve essere una cosa veramente incredibile andiamo avanti questa ve l'avevo mostrata molto velocemente ieri e rientra nella parte della sperimentazione cioè parti di cardo non utilizzate nel processo di produzione del biocombustibile vengono ridotte in poltiglie ed impiegate con un nuovo materiale 100% biodegradabile per realizzare una serie di arredi per interni ora qual discorso non è tanto il fatto di dire utilizzo il cardo qual discorso è il fatto di dire che ci sono degli scarti che si sono generati da un processo produttivo e il sistema produttivo italiano così come il sistema produttivo mondiale sono pieni di questi scarti in questo caso sono materiali naturali questi materiali vengono riutilizzati miscelati con una resina io mi auguro naturale a base naturale a un collante a base naturale per fare una seduta qua naturalmente l'intelligenza del designer di accostare anche qui questa seduta con una base comunque in legno che ben lega quindi l'aspetto della naturalità con la seduta e comunque di staccare non si riesce a capire nel dettaglio con che elemento ma sembra delle componenti in gomma che permettono anche il fissaggio della base con la seduta comunque da un'identità interessante a questo prodotto secondo me può essere colorata secondo me sì perché nel momento in cui riusciamo con delle basi d'acqua a colorare queste resine allora riusciamo ad ottenere a migliorare anche queste performance la cosa importante qual è che se io prendo questi scarti uno li posso mandare a compost li posso mandare a fare biodegradare quindi vanno nel loro processo e non è un problema di riciclo perché comunque si rigenerano cioè non creano inquinamento il fatto che io decido di rimpiegarli per andare a realizzare una seduta e quindi il concetto dovrebbe essere quello che ho un rifiuto genero una seduta e quindi non devo utilizzare materia prima per creare una nuova seduta è interessante se poi la stessa è facilmente riciclabile nuovamente quindi questa è la base del principio questa è la base dell'esperimentazione ma soprattutto quello che a me piace di questa idea è il fatto che da degli scarti si sono inventati una seduta questa è la provocazione che a me piace e se la sono creata in modo anche intelligente si hanno preso della resina l'hanno mischiata hanno fatto uno stampo però l'hanno fatto partendo da scarti alimentari quindi qua si diceva ieri siamo pieni di scarti alimentari è logico non dobbiamo fare un mondo di scarti alimentari cioè un mondo di siedi di scarti alimentari che poi magari ci mangiamo però l'idea è quella di comunque cercare in qualche modo di valorizzare purché questa valorizzazione segua il principio della sostenibilità terra compressa e rifiuti agricoli vengono utilizzati per produrre una linea di complementi d'arredo al fine vita i prodotti possono tornare a diventare terra allora io credo che questa cosa sia come concetto fantastico nel senso se come mi sembrava di aver capito il legante è un legante molto naturale il fatto che io vado in un campo prendo della terra utilizzo un legante naturale lavoro questa terra attraverso questo diciamo processo mi vado a realizzare degli oggetti che a un certo punto quando non mi piacciono più riprendo e li ributto nel campo e questo oggetto torna a diventare ad essere terra io penso che sia il massimo dell'essenza il massimo della sostenibilità cioè è una cosa incredibile non è così semplice in quanto qua c'è dietro un processo di lavorazione ma il fatto che io comunque prelevo della terra adesso possiamo andare fuori prendere la terra lavorarla stamparla fare questo oggetto e poi ributtarla alla fine cioè non c'è bisogno di buttarla nel cassonetto devo trovare semplicemente un giardino devo trovare semplicemente un campo dove io prendo e lo butto è logico che se abbiamo utilizzato resine possidiche se abbiamo utilizzato dei componenti additivi chimici se abbiamo utilizzato altre sostanze che vanno a inquinare la terra stessa iniziamo a creare una serie di problemi alla terra però come mi è sembrato di capire di questo processo hanno utilizzato solo ed esclusivamente resini e collanti a base naturale e attraverso la cottura quindi il principio della terra cotta non è un principio vecchissimo è un principio cioè non è un principio scusate un principio nuovissimo è un principio storico non stiamo inventando niente di nuovo non vi sto presentando niente di nuovo vi sto solo dicendo che la terra cotta attraverso un nuovo processo di legante naturale permette di farci dei lampadari permette di farci delle sedute belle o brutte che siano a me questi lampadari non dispiacciono perché hanno la loro identità ma ci possono essere altri prodotti il fatto che alla fine non devo andare al cassonetto non devo fare la cotta riferinziata ma lo butto in un campo a me è una cosa molto intelligente quindi questo è lo scenario su cui stiamo andando rifiuti provenienti dalla produzione e consumo di frutta verdure cereali trattati con diversi leganti naturali vengono modellati per realizzare una serie di lampade biodegradabili e compostabili ora al di là che il risultato estetico in questo caso possa piacere o non piacere la cosa qui interessante e lo ridico ne abbiamo già parlato ieri che già è il terzo quarto caso ma ce ne sarebbero altri 20 da presentarvi che si parla di rifiuti provenienti dalla produzione del consumo di frutta verdure cereali quindi scarti agricoli scarti alimentari che vengono rimpiegati per fare nuovi materiali ora guardando nel dettaglio la texture l'identità di questo materiale è vero che dovrebbe essere in certo senso toccata è vero che dovrebbe essere visualizzata nel dettaglio però hanno una loro identità naturale quindi in questo contesto non ci sarà più il bello o il brutto in quanto si può intervenire e migliorare il prodotto per comunque rendere il prodotto stesso gradevole ma a me interessa moltissimo questo principio quindi dagli scarti agricoli questo è l'orientamento si ottiene questo materiale che è un po' quanto è stato fatto come sperimentazione da voi lì è stata fatta in una direzione della pelle qua è stata fatta in un'altra direzione così come ci sono delle aziende della carta che utilizzano questi scarti agricoli proprio per fare le fibre di carta per fare dei fogli di carta quindi l'orientamento è molto di valorizzare questi materiali la questione qual è secondo me è critica critica non tanto ma è una questione di mentalità che noi siamo abituati ad avere tutta una serie di prodotti fatti in un certo modo e quindi il fatto di vedere una sedia o di vedere un arredo che non è più fatto in quel modo ma è fatto in un altro deve essere digerito ora noi che siamo nell'ambiente molto probabilmente è più facile da digerire ma la signora Maria che è abituata ad andare a prendere il mobile in stile tipico in legno va benissimo purché sia da fonte rinnovabile o la lampada che comunque è fatta in un certo modo in metallo perché da anni ha sempre utilizzato lampade diciamo termo lampade piegate o termoformate o stampate a freddo in alluminio in acciaio cosa succede che uno gli propone un oggetto di questo tipo e rimane un po' lì quindi c'è questo passo che bisogna fare ma secondo me è fattibile perché le aziende stanno andando in questa direzione la ricerca va in questa direzione io non penso che tutti questi prodotti tutti questi oggetti che sono per tornare al discorso artigianale che sono oggetti artigianali non abbiano un futuro hanno sicuramente un futuro lo stanno sviluppando ed è la base per poi passare a un sistema industrializzato quindi sono esempi che ben calzano il contesto dell'artigianalità della sperimentazione artigianale è logico che bisogna farci un po' di sperimentazione metterci dentro un po' di propria innovazione che quindi quella regolina diciamo magica permette di dire l'ho fatto io questo il trucco lo conosco io te lo metto sul mercato e ti faccio capire che comunque è una forte identità artigianale una forte identità di ricerca ha un suo design e può avere un suo mercato fondi di caffè erano queste quelle che dicevi? fondi di caffè uniti con legante naturale dice e sottoposti ad un processo di trasformazione tramite la pressione e temperatura assumono la consistenza necessaria per realizzare la nuova linea di lampadari questo è il periodo anche del caffè e cioè i fondi del caffè spesso utilizzati in agricoltura come concime se ne parlava anche ieri perché hanno elevate prestazioni anche per assumere l'umidità insomma di varie caratteristiche fondi di caffè poi sono stati oggetto anche di vostra sperimentazione vengono utilizzati per fare questi oggetti io li trovo estremamente interessanti perché il solito principio è che uno scarto viene trasformato viene lavorato e diventa un nuovo prodotto un prodotto che ha un'identità naturale il fondo del caffè insomma il caffè è un colore molto interessante ora non so in questo caso che senso può avere andarlo a colorare potrebbe avere un senso se avviene attraverso un processo naturale e se è possibile magari renderlo vedere cosa succede rendendolo più chiaro sapete che originariamente il caffè comunque ha un colore verdastro ha un colore chiaro dopo il fase di trattamento dopo la fase di tostatura comunque prende un colore abbastanza scuro quindi se si riesce in qualche modo a intervenire sulla colorazione in quanto qua lo vediamo è bello perché c'è uno sfondo bianco c'è un contrasto c'è un'illuminazione cioè è studiata molto bene questa foto il fatto comunque di poter cercare di intervenire per diciamo renderlo un po' più chiaro potrebbe essere che comunque permette di si potrebbe arrivare alla realizzazione di vari oggetti e gambe di colori allora undici e mezza io direi che prima di passare agli occhiali in legno se siete d'accordo facciamo cinque minuti di pausa facciamo cinque minuti di pausa allora grazie ok allora quando volete ok bene riprendiamo velocemente finiamo di vedere gli esempi e poi vi presento il portale allora altro esempio occhiali fatti in questo caso dal riciclo del legno utilizzati per gli skateboard qui la cosa simpatica è che vecchi skateboard ma anche vecchie tavole da surf vengono recuperate e vengono lavorate per realizzare tutta una serie di occhiali le rifiniture anche in questo caso sono rifiniture abbastanza di qualità in quanto essendo legno appunto realizzato per gli skateboard e quindi in multistrato la resa finale è abbastanza elevata e l'aspetto particolare appunto è la colorazione perché a seconda del tipo di skateboard e le colorazioni che hanno avuto è possibile avere in questo caso occhiali con diverse colorazioni altro tema che è quello delle bioplastiche bioplastiche sapete ci sono bioplastiche dicevo all'inizio solo biodegradabili e bioplastiche compostabili la differenza tra una e l'altra è determinata da una normativa europea e altre normative dalle iso internazionali che stabiliscono quando un materiale è compostabile biodegradabile e quando un materiale è compostabile quindi ci sono varie sperimentazioni oggi in corso soprattutto nel settore dell'imballaggio qua c'è l'esempio di Levissima ma ci sono anche altre aziende che hanno realizzato prodotti in bioplastica sempre alimentari sempre bottiglie dell'acqua così come ci sono state le sperimentazioni nel settore dell'arredamento così come nella nella calzatura è diciamo quello della bioplastica un settore in forte evoluzione e a secondo del tipo di plastica e di componente additivo che si vuole utilizzare è possibile in molti casi anche programmare la biodegradabilità del materiale staremo a vedere se oltre al settore dell'imballaggio entrerà in modo forzato anche in altri settori che per ora si sono diciamo solamente la plastica si è solo affacciata in questi altri settori qui vi ho portato degli esempi come esempi negativi di sostenibilità nel senso che esempi di greenwashing dove ad esempio questi occhiali che sono classici occhiali realizzati o in policarbonato in resina acetalica che vengono rivestiti con dei dischi diciamo dischi ormai non più utilizzati e quindi come decorazione artistica e vengono venduti anche come occhiali realizzati con il riciclo dei dischi in questo caso non ha una funzione realmente di sostenibilità perché gli occhiali già esistevano preesistevano e questo è semplicemente una decorazione aggiuntiva che viene fatta agli occhiali quindi esempi negativi di ambito di sostenibilità e in questo caso si sono spinti addirittura a fare una serie di occhiali provenienti da una collezione limitata dei pinfroid quindi qua l'aspetto di marketing è una cosa abbastanza folle poi ci sono gli amanti e non amanti dei pinfroid che però il riutilizzo di questi materiali è qualcosa di incredibile quindi non sono esempi positivi ecco detto ciò e finita quella che è la carellata sugli esempi di materiali ambientalmente sostenibili io adesso vi vorrei presentare scusate che abbiamo un cambio tecnico in corso vediamo se tutto funziona come dovrebbe funzionare controllo F3 giusto? non lo so perché siamo su Windows facciamo così di solito ecco forse questo F5 controllo F5 scusate un piccolo problema tecnico nel passaggio perfetto ok allora questo è qua? no in alto sinistra ecco qua allora vi presento il il nuovo osservatorio il nuovo portale di Matrek che appunto abbiamo rivoluzionato completamente rispetto alle precedenti versioni e parliamo parliamo di osservatorio ok parliamo di osservatorio perché vabbè Matrek è un portale dove? qua io qua vedo una cosa scusa scusa ok perfetto è questo portale dedicato interamente al tema della sostenibilità dei materiali e con il grosso lavoro fatto nell'ultimo anno dove ci siamo interfacciati con molte imprese dove ci siamo interfacciati con architetti designer abbiamo creato due principali sezioni la sezione dei materiali e la sezione dei trend perché questo? allora innanzitutto va detto che Matrek è uno strumento di supporto alla progettazione alla progettazione per la ricerca di materiali ambientalmente sostenibili è l'unico portale a livello internazionale dedicato interamente ai materiali sostenibili ai trend di mercato abbiamo in ora raggiunto oltre 1700 materiali e stiamo man mano aggiungendo nuovi trend per i trend si intende adesso di far vedere nuovi prodotti e il senso qual è? che ci sono un sacco di imprese ci sono progettisti designer architetti che vogliono conoscere vogliono realizzare nuovi prodotti vogliono fare innovazione sostenibile l'obiettivo di questo portale l'obiettivo dell'osservatorio è quello di dire noi ti diamo tutte le informazioni necessarie per fare questa ricerca oltre a ciò noi come società facciamo consulenza diretta alle imprese proprio per aiutarle raffiancarle nel diciamo così nello sviluppare questi nuovi prodotti nel fare anche un'analisi ambientale dei loro prodotti allora andando in ordine è caratterizzato come vi dicevo prima da due sezioni naturalmente è un portale che va per per sottoscrizione in abbonamento comunque ci sono tutta una serie di informazioni gratuite anche per i non abbonati per quanto riguarda la parte dei materiali e già dalla home page viene presentato l'aggiornamento di quelli che sono sia i materiali sia i prodotti questa è l'ultimissima pubblicazione che abbiamo presentato ieri sulle nuove frontiere di carta e cartone ma scorrendo appunto si possono trovare le novità in termini di materiale le novità in termini di prodotti che comunque permettono di dare permettono di avere un'idea di quelli che sono gli orrettamenti sia delle grandi aziende ma anche nell'ambito artigianale di nuove sperimentazioni allora partendo dalla sezione materiali come strumento ci sono diverse possibilità di fare ricerca qui vengono presentati gli ultimi materiali e andando a ritroso naturalmente si scorre e per le varie tipologie si vedono tutti i materiali presenti ed è possibile fare una ricerca sia per codice o per nome materiale l'altra ricerca che è possibile fare è o per tipologia di materiale ad esempio volete solo materiali naturali oppure volete solo bioplastiche oppure volete solo materiali riciclati oppure sull'origine cioè volete solo materiali al 100% da fonte rinnovabile materiali da agricoltura biologica oppure materiali parzialmente da fonte rinnovabile naturalmente questa ricerca si va a articolare in due contesti principali che sono poi quelli dei materiali riciclati e dei materiali naturali suddivise proprio per tipologie quindi per materiali riciclati dalla bagassa al caffè la canapa la carta i cereali il cocco e via così aree tipologie fino anche materiali riciclati misti la stessa cosa per materiali naturali la ricerca inoltre può essere fatta anche per fine vita cosa vuol dire che io voglio cercare solamente per materiali che siano riciclabili oppure materiali che siano biogradabili oppure materiali che siano compostabili oppure mettere assieme il mix di tutte queste informazioni ad esempio io posso cercare ad esempio facciamo un esempio materiali riciclati adesso vediamo la velocità della linea ok quindi qua viene presentata tutti quelli che sono i materiali riciclati presenti all'interno dell'osservatorio in totale sono 887 e questa ricerca naturalmente può essere poi ridotta o semplificata ad esempio cerchiamo solo materiali realizzati in carta a questo punto è possibile fare le varie spunte fino ad andare a cercare nello specifico il materiale che a noi interessa maggiormente quindi abbiamo scelto un materiale riciclato tipologia carta e possiamo dire che sia successivamente riciclabile in quanto come vi ho detto ci sono dei materiali che non sempre sono riciclati infatti la numerazione a questo punto scende a 66 inoltre possiamo fare la ricerca anche per formato ad esempio cercare un materiale nello specifico per assi doghe struse rotoli granuli lastri manufatti mattoni naturalmente man mano che scegliete le tipologie quando non sono presenti queste tipologie vengono escluse le altre è possibile fare una ricerca per certificazioni certificazioni ambientali di prodotto in questo caso abbiamo materiali cartacei che sono certificati che hanno solo il certificato crediti lead e pd o fsc ma poi vi farò vedere che ci sono tantissime altre certificazioni anche grisil e green e certificazioni ambientali di prodotto certificazioni anche ambientali di impresa in questo caso ci sono delle aziende che sono certificate ISO 14000 e certificazioni questa è la novità che abbiamo voluto inserire sociale di impresa e come SA8000 e a breve inseriremo anche la certificazione sociale di prodotto dopodiché è possibile fare la ricerca per azienda quindi quelle che sono tutte le aziende presenti nella library che hanno realizzato prodotti in materiale in carta riciclata oltre a questo è possibile anche fare una ricerca per continente quindi qualcuno vuol fare una ricerca partendo dal continente in questo caso è possibile partire dal continente stesso quindi ripulendo la ricerca andiamo nello specifico a vedere quello che ho mostrato prima che non è un falso ad esempio le certificazioni ci sono certificazioni ambientali di prodotto queste sono tutte le certificazioni di prodotto compreso anche il lead anche se non è una certificazione comunque l'abbiamo inserita quindi un'azienda secondo del specifico mercato può anche fare una selezione di materiale per specifico certificazione così come per continente ad esempio cerchiamo in Europa andiamo a vedere all'interno dell'Europa e poi all'interno del paese è possibile fare una ricerca mirata in questo caso sono 576 materiali e quindi arrivare ad ottenere una ricerca molto puntuale sull'acquisto dei materiali per proprio paese o per continente detto ciò andiamo a vedere nello specifico cosa poi si ottiene allora innanzitutto va detto che in questa prima ricerca già viene presentato il codice del materiale considerate che siamo già logati e quindi i non abbonati naturalmente avranno tutta una serie di limitazioni cliccando naturalmente nella ricerca precedente scusate già qua vi aiuta molto che cosa vi aiuta molto il fatto di capire di che materiale stiamo parlando quindi in questo caso cocco o altro questo è un materiale cartaceo questo è altro quando c'è misti di più materiali abbiamo lino lino abbiamo plastica carta altro quando è un misto di più materiali bioplastica lana legno e così via seta inerti plastica viene presentata una breve descrizione del materiale c'è il matrix index che questo è un indicatore che abbiamo creato noi perché perché all'interno della scheda che adesso vedremo ci sono varie informazioni ambientali per aiutare il progettista abbiamo creato questo indicatore che va a considerare una serie di parametri da cui anche le certificazioni che in qualche modo aiuta il progettista l'impresa anche a orientarsi e capire se sia come performance di materiale sia come performance di politica impresa un materiale ha una valenza ambientale e sociale più elevato rispetto a un altro attenzione il matrix index non deve essere utilizzato come strumento di comparazione delle performance del materiale perché non considera solo le caratteristiche del materiale ma anche le certificazioni inoltre qua sotto si vede già da subito se il materiale naturale è riciclato e in questo caso è compostabile quindi a questo punto si entra nella scheda e c'è una scheda per ciascun materiale problemi di connessione vediamo problemi di connessione non c'è più segnale però fino adesso è andato come? avevo dimenticato questa cosa che mi sconnetto dall'università non sono collegato con la internet ah eh abbiamo la internet si qua c'è il cavo di rete vediamo se funziona però allora facciamo così che almeno non facciamo vedere scusate il disguido prego devi togliere il wifi no? no da solo? ok torniamo in diretta quindi perfetto cosa succede? aprendo la scheda del materiale troviamo innanzitutto ah sì c'è ragione lo vedevo solo io scusate vediamo se arriva il segnale perfetto allora in questo caso abbiamo eravamo in materiali prendiamo un materiale di esempio questo materiale e per ogni materiale cosa viene presentato? viene presentato innanzitutto il nome anche qui l'origine del materiale quindi naturale ed è anche riciclato il codice del materiale il matrix index in questo caso il 53 viene presentata la foto del materiale e tutta una serie di applicazioni in una galleria di quello che viene fatto col materiale e anche la materia prima naturalmente questa galleria è uno dei nostri punti di forza in quanto la stiamo sempre più arricchendo per far capire al progettista cosa si può fare con e cosa viene già fatto con questo materiale dopodiché abbiamo una breve descrizione del materiale e poi abbiamo due sostanzialmente colonne quella con tutte le informazioni ambientali e quella con le informazioni tecniche dove le informazioni ambientali abbiamo l'origine come visto prima che è componente naturale e componente riciclato la composizione del materiale in questo caso è lattice e fibre di cocco e qui in molti casi abbiamo la composizione anche in percentuale quando l'azienda ce la comunica in altri casi per questione di ricetta e di riservatezza l'azienda non ce la comunica il fine vita quindi se è riciclabile compostabile o biodegradabile in questo caso il materiale è compostabile quindi anche biodegradabile se è presente sul sito dell'azienda una scheda o più schede a carattere ambientale tipo studi di EPD studi di LCE o altre informazioni ambientali aggiuntive che le aziende che l'azienda ha realizzato le certificazioni in questo caso l'azienda non ha nessun tipo di certificazioni altre informazioni varie e anche le informazioni in termini di footprint come consumo energetico cede emissioni climalteranti per una produzione di un chilo di quel materiale oltre alle informazioni ambientali quindi un sacco di informazioni ambientali abbiamo anche le informazioni tecniche quindi informazioni tecniche che partono da una scheda ambientale che viene messa a disposizione sempre dall'azienda in questo caso Coccoform dove si vede in modo specifico quelle che sono tutte le caratteristiche tecniche anche del materiale dove sono presenti e quindi in molti casi ci sono anche più schede tecniche il formato del materiale in questo caso l'azienda commercializza per ora manufatti ma a breve commercializzerà anche dei fogli le tecnologie di lavorazione e le finiture le caratteristiche sensoriali del materiale altre caratteristiche se ci sono delle dichiarazioni aggiuntive che il produttore ha ha voluto aggiungere per quanto riguarda il suo materiale le principali applicazioni di questo materiale quindi come imballaggio per uova profumi e bevande e naturalmente il sito delle fonti e il sito dell'azienda per cui da contattare quindi considerate che una parte di queste informazioni sono rese disponibili anche gratuitamente naturalmente non tutte le informazioni ma quelle più strategiche con riferimenti delle aziende no e questo permette quindi anche a studenti in un certo senso che devono fare solo una ricerca diciamo di base non approfondita di accedere tranquillamente a matric qua sperando che non mi abbia ributtato fuori vediamo ecco questa vedete la scheda da non abbonato adesso devo rifare il logato quindi vedete comunque non vedete il il matrix index vedete la descrizione ma vedete l'origine vedete la composizione vedete il fine vita vedete tutte quelle che sono non non da la possibilità di accedere alla scheda vedete tutte le informazioni tecniche del materiale quindi tutte quelle che sono le caratteristiche naturalmente non ci sono le altre informazioni ambientali non c'è riferimento dell'azienda e non c'è neanche riferimento alle fonti dati a questo punto però possiamo accedere nuovamente perfetto torniamo nella nostra pagina rivediamo la stessa scheda carrellata carica perfetto carrellata delle informazioni delle applicazioni questo è un materiale cartaceo ondulato quindi in questo caso ci si può rendere perfettamente conto di quelle che sono le varie applicazioni quindi anche in questo caso c'era la scheda che da non abbonato non si può accedere quindi qua la scheda tecnica del materiale con tutta una serie di altre applicazioni varie tipologie del cartone come può essere come non può essere lavorato e se andiamo a vedere in questo caso il materiale è certificato FSC quindi il matrix indes è salito come punteggio e come dicevo prima poi da logati avete il riferimento a quello che è l'azienda la novità una delle novità di di questo portale qual è? che nel momento in cui fate una ricerca allora scusate facciamo così perfetto nel momento in cui fate una ricerca di materiali avete la possibilità di confrontare fino a tre materiali quindi ad esempio confrontiamo i due materiali che abbiamo visto vengono messi lì con un terzo materiale che potrebbe essere questo si lancia il confronta e quello che succede è che si vedono tutte le caratteristiche di quelli che sono i materiali di tutti e tre i materiali sia dal matrix index sia per quello che è l'origine il fine vita la descrizione la composizione l'origine l'abbiamo detto il fine vita anche le certificazioni quelli di quali di questi materiali sono certificati quali no quindi anche quale è riciclato e quale naturale fino ad arrivare al footprint quindi agli indicatori di carbon footprint il continente e il paese di questi materiali questo strumento ci è stato espressamente richiesto dalle imprese proprio per fare una ricerca e poter confrontare diversi materiali con diverse caratteristiche quindi questa è la parte della ricerca di materiali ci sarebbe molto da dire ma il tempo corre andiamo a vedere quella che è la parte dei trend i trend sostanzialmente nascono da questo osservatorio internazionale che noi abbiamo e qui lo vediamo negli anni dal 2002 ad oggi abbiamo creato un network un network che qui è presente con dove vedete l'antennina con persone che come noi o centri di ricerca o università con cui ci relazioniamo settimanalmente per capire cosa succede cosa non succede in termini di prodotto di innovazione se ci sono nuovi materiali la sede principale appunto in Italia anche se qui sembra Parigi in Italia e poi abbiamo due partner uno a San Paolo e uno in Messico a Guadalara con cui ci interfacciamo e stiamo facendo tutta una serie di progetti di collaborazione a breve sigleremo altri accordi con altre università internazionali quindi grazie a questo network noi riusciamo settimanalmente ma con una ricerca giornaliera a monitorare tutta una serie di prodotti e ciascuno di questi prodotti può essere ricercato sia per materiale ma anche per settore ma anche per fine vita anche per anno o anche per continente cosa vuol dire che se io mi voglio muovere nel settore ad esempio dell'arredamento per interni mi escono tutti quelli che sono i prodotti di arredamento per interni 264 quindi che adesso stiamo andando ad ampliare stiamo andando a suddividere anche per categoria e cosa succede ad esempio li possiamo scorrere andandoli a vedere uno per uno e ad esempio possiamo vedere questa radio in bambù andiamo a vedere nello specifico e cosa ci viene presentato anche qui ci viene presentata quella che è quello che è il prodotto quindi la carrellata fotografica del prodotto una breve descrizione e il riferimento alla scheda del materiale la categoria e naturalmente da qui si può risalire all'azienda produttrice del prodotto stesso quindi contatto diretto con l'azienda produttrice dove si vede tutta la vastità di questa produzione la stessa cosa può essere fatta anche per ricerca specifica del materiale come ad esempio sto cercando tutta una serie di prodotti in sughero ad esempio la ricerca presenta tutta una serie di prodotti in sughero e io poi o che hanno componenti in sughero delle varie i vari settori posso anche dirgli guarda mi interessano solamente i prodotti in sughero dell'anno 2014 quindi posso andare a restringere il trend in questo caso sono nove quanto li stiamo ancora andando ad inserire e quindi posso andare anche a ristringere ancora di più la mia diciamo ricerca per dire sai che c'è mi interessano solamente quelli in sughero del 2014 del settore fashion in questo caso sul settore fashion c'è solo questo orologio perché appunto li stiamo continuamente ad aggiungere e pensiamo di arrivare entro la fine dell'anno ad avere un migliaio di questi prodotti trend mentre invece per il settore dell'architettura cosa succede e andiamo verso la conclusione perché siamo quasi a luna mancano tre minuti che così come per il fashion così come per l'imballaggio è possibile andare a vedere quelli che sono i vari prodotti alcuni di quali li abbiamo visti oggi altri sono anche corredati da video e quindi fare delle specifiche ricerche incrociandole con i materiali quindi la forza qual è? è quella di andare a vedere il prodotto e metterlo in relazione con il materiale di essere costantemente aggiornati di conoscere le specifiche e in più oltre a questo abbiamo tutta la sezione dei book nel senso che tutte le nuove pubblicazioni che noi andiamo a presentare vengono messe a disposizione in alcuni casi gratuitamente se sono fatti con dei partner in questo caso con Comieco in altri casi le prossime pubblicazioni saranno solo per gli abbonati e specifiche per i trend quindi andremo a fare analisi di trend specifico per materiale ma anche specifico per il prodotto quindi andando verso la conclusione a breve verrà introdotto anche nella sezione My Mat quindi l'abbonato la possibilità di salvarsi questi materiali di avere una propria library oltre ad altri strumenti che poi verranno resi pubblici più avanti per aiutare le imprese ma anche i progettisti a fare delle ricerche e a fare delle analisi specifiche abbiamo presentato il nuovo portale circa tre settimane fa l'abbiamo presentato a Milano in occasione di una mostra che è avvenuta durante la manifestazione Architect and Work in collaborazione con DDN e OFARC c'è stato un grosso riscontro positivo da parte delle imprese e quindi abbiamo avuto anche ottime indicazioni su quelle che sono le caratteristiche del sito e anche sull'aggiunta di nuovi servizi quindi contiamo di implementarlo sempre di più per far diventare questo osservatorio internazionale sull'innovazione sostenibile dei materiali di prodotto un vero strumento sia di affiancamento alle imprese ma anche i progettisti ma anche al settore degli artigiani come uno strumento competitivo per sapere per avere il sapere del design per la sostenibilità ambientale e sociale e anche come supporto per capire con un materiale cosa si può e cosa non si può fare ma anche cosa ci si può inventare quindi qua di tempo diciamo per fare la ricerca ce ne vuole nel senso per arricchimento si parlava prima di occhiali in carta concludo facendovi vedere quest'ultimo esempio sempre di occhiali in carta dove qui vedete che la personalizzazione è molto spinta e quindi con varie personalizzazioni e vari strati di carta pressati tra loro in questo caso avete visto scusate torno solo indietro velocemente che si lavora proprio sull'elasticità della fibra della carta per la piegatura dell'occhiale anziché mettere la vite è logico che col tempo anche se c'è può essere messa della componente di naturale per mettere tutta questa elasticità col tempo è logico che potrebbe in qualche modo esserci una diciamo potrebbe alterarsi non essere più elastico come prima però ci sono dei risultati di questo accoppiamento di questo occhiale che permettono una personalizzazione notevole bene io direi che se ci sono domande velocemente rispondo a queste domande vi invito ad accedere vedere provare testare il nuovo portale il nuovo osservatorio proprio perché lo stiamo fortemente arricchendo e vogliamo essere appunto il punto di riferimento internazionale sull'innovazione sostenibile facendo vedere sia i materiali ma soprattutto facendo capire come i nuovi prodotti le nuove tecnologie possono portare alla sostenibilità la valorizzazione di questi materiali se avete le domande se i cabine non sono capitati delle aziende che fanno il loro prodotto e che poi le aiutate a portarle oltre cioè le aiutate a trasformare il loro prodotto perché sia un prodotto che poi può essere riciclabile cioè che si si affaccia a un altro tipo di mercato comunque si si ci capitano spesso di questi casi di aziende che ci chiamano perché da una parte vogliono avere una lettura trasparente del loro prodotto in termini di sostenibilità e dall'altra rinnovare il prodotto sviluppare un nuovo prodotto con diciamo con requisiti ambientali eco innovativi aggiuntivi quindi lavoriamo con queste aziende le affianchiamo partiamo dal prodotto di partenza vediamo cosa si può fare con questo prodotto di partenza in alcuni casi il prodotto ha già delle valenze ambientali ma l'azienda non lo sa sviluppiamo con loro nuove soluzioni sviluppiamo con loro nuovi prodotti o andiamo a sviluppare anche altri materiali che con loro ricerchiamo altri materiali che possono essere loro impiegati proprio per migliorare sia dal punto di vista le performance ma anche degli aspetti ambientali lo stesso materiale quindi assolutamente sì ci capitano casi diversissimi su questo bene io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche quelli collegati in diretta streaming e abbiamo chiuso questo laboratorio e con grande successo e quindi grazie mille per l'attenzione grazie mille grazie mille